Inaugurato stamani a Palazzo Mercantile di Bolzano, l'anno giudiziario 2015, sono stati illustrati i dati dal presidente della Commissione Tributaria di secondo grado, Paolo Ranzi, il quale ha evidenziato che nel periodo compreso tra settembre 2014 e marzo 2015, la Commissione ha emesso 261 decisioni, definiendo così gli ultimi dei 1.239 procedimenti pervenuti dalla sede di Roma. Inoltre, tra l'inizio di luglio 2013 e la fine di giugno 2014, gli appelli pervenuti sono stati 112, con una diminuzione del 30% rispetto all'anno precedente. Un dato positivo dettato dalla diminuzione del contenzioso tributario grazie all'effetto della mediazione tributaria. Per quanto riguarda le sentenze di secondo grado, sono stati presentati 37 ricorsi per Cassazione contro i 62 dell'anno precedente. Inoltre ha preso la parola al direttore di segreteria della Commissione Tributaria di secondo grado, Sara Mani, che ha sottolineato gli ottimi risultati conseguiti nell'attività di gestione e funzionamento dei servizi telematici di supporto alla funzione giurisdizionale.